di eroismi creativi, chi l'avrebbe mai detto che finalmente si sarebbe trasformato tutto ciò in una grande adunata oceanica? Finalmente ciò è avvenuto, io vi ringrazio, purtroppo la serata ha avuto alcuni incidenti di cui io non mi lamento perché il frainteso è sempre parte del lavoro artistico, quindi essere fraintesi fa parte del nostro mestiere, quindi io non mi arrabbio, è andata così pazienza. Vi devo però salutare perché l'intrattenimento populista preme, preme. E quindi dopo aver ascoltato questa sessione di musica potente vi invito ancora una volta ad andare a vedere questi nuovi gadget che abbiamo fatto, anche il gadget del quadro Vivere è una vergogna, quindi è una spilla meravigliosa, è dell'altro quadro Assalto proditorio e quindi io purtroppo non posso fare altro che darvi appuntamento ai prossimi eventi post-contemporanei di cui, visto che appunto siete così appassionati, vi comunicherò anche quello minore prossimo al baraccano, nelle sale museali, giovedì prossimo saranno esposte ben cinque opere post-contemporanei in una collettiva dove è presente anche un altro artista post-contemporaneo che è Enzo Mandrioli, un pittore massiccio. E quindi vi do appuntamento a giovedì e ai prossimi appuntamenti che saranno conosciuti a mezzo stampa.